In soli cinque giorni 25 le persone tra cui due baristi multate a Sondro dagli agenti della squadra volante della Questura per violazione delle misure anti-covid. Sotto la lente dei poliziotti alle 19.30 di ieri è finito un bar del centro cittadino all'esterno del quale numerosi clienti stavano consumando l'aperitivo. In questi giorni in cui la Lombardia è ancora in zona arancione i locali possono esclusivamente effettuare servizio di asporto entro le 18 con il divieto assoluto per gli avventori di consumare sul posto in prossimità degli esercizi pubblici creando assembramento. Va nel risultato il tentativo di eludere i controlli da parte del titolare del locale che alla vista degli agenti ha chiuso di tutta fretta la porta del bar a chiave simulando di aver concluso la sua attività. Così il barista e gli 11 clienti sorpresi con il bicchiere in mano sono stati tutti sanzionati. Solo pochi giorni prima domenica alle 21 nei guai era finito un altro barista di Sondrio. In quel caso quando nel suo locale in apparenza chiuso dalla porta sul retro avevano fatto irruzione gli agenti della volante era in corso addirittura una festa. Anche in quel caso i 12 clienti e il titolare del locale erano stati multati.